Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video di Salgato e Bicocca, siamo qui con Francesco e Valeria. Allora, partiamo subito con la prima domanda. Esistono limiti d'età per seguire le proprie passioni, sì o no? Allora, no, non esistono limiti d'età perché noi, come dice la prima regola della nostra scuola, niente è impossibile, quindi tutto si può fare con duro lavoro, sacrificio, tanta passione e determinazione, ricordando che solo sul dizionario il successo viene prima di sudore, quindi potete fare quello che volete in ogni momento della vostra vita. La seconda domanda è, off passion la vostra azienda, di cosa si tratta e cosa fate? La nostra azienda insegna robotica educativa, un po' a tutti, partiamo dai bimbi molto piccoli, due o tre anni, fino ad arrivare ad adolescenti, adulti, insegnanti, aziende, e cerchiamo di mettere insieme hard e soft skill, usando la robotica come mezzo per insegnare alle persone a lavorare in gruppo, essere creative e cercare in qualche modo di permettergli di scoprire le proprie passioni. L'ultima domanda è, quale consiglio vi si interessa di dare ai giovani? Allora, i giovani non devono mai mollare perché il futuro è radioso, è positivo, la robotica, quella che insegniamo noi ma anche quella che insegnano tutti gli altri, è il futuro. Bisogna calcare questo percorso, percorrere questa strada, non aver paura di robot perché tutto quello che faranno i robot sarà al servizio dell'uomo e per l'uomo. Al massimo, è vero, ci riruberanno un sacco di posti di lavoro, ma saranno lavori ripetitivi, noiosi e noi saremo dall'altra parte a goderci finalmente la vita. Grazie mille, grazie di essere state con noi. Io vi rimando a tutti i nostri social e dai Bicocca è tutto, grazie.